Musica Giornata nera in Molise a causa del covid, altri quattro decessi, regione emozione sui contratti a tempo determinato per sanitaria partita IVA via libera dal consiglio regionale. Musica Si protrarrà fino al 29 di gennaio la zona rossa Sant'Elia a Pianisi a seguito dei focolai scoppiati nelle settimane scorse, situazione sotto controllo, ma guardia alta. Il rientro in presenza nelle aule scolastiche previsto per lunedì 18 gennaio è ancora incerto per via dei contagi, i studenti temono adesso ripercussioni sulla crescita educativa. Il caffè e la bevanda alleata della salute del cuore lo rileva un nuovo studio effettuato dal Dipartimento Neuromed di Pozzigli, confermate le proprietà protettive. Musica Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'informazione del telegiornale della sera di TLT. Andiamo a vedere come di consueto i dati riguardanti l'aggiornamento Covid, giornata nera per il Molise a causa della pandemia, decedute altre 4 persone, sale così a 226 il numero dei morti in questa seconda ondata pandemica. I positivi sono invece 39 in lieve diminuzione, ancora pressione invece all'interno dei nosocomi della regione per quanto riguarda i ricoveri. Invece guardando il dato nazionale sono 17.246 nuovi casi di contagio. Il tasso di positività si attesta al 10,7% in lieve aumento rispetto alla giornata di ieri e nelle ultime 24 ore. Ci sono stati altri 522 decessi, calano invece di 22 unità le terapie intensive. E dopo i numerosi presidi dinanzi le sedi della regione Molise, la protesta dei comitati che lottano per una sanità più efficiente ed efficace si è spostata oggi invece dinanzi all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Noi siamo andati a vedere. Il sistema sanitario molisano è in una condizione di enorme difficoltà. Basta pensare che è in uno stato debitorio da moltissimi anni e gestito da un commissario ad acta nominato dal governo centrale. Oggi, dopo i numerosi presidi davanti alle sedi della giunta e del consiglio regionale, dopo le presenze nelle piazze delle città e dei comuni, la protesta si è spostata davanti all'ospedale Cardarelli di Campobasso, dove attualmente le criticità sono davvero tante e assolutamente insolute. Se pensiamo al piano sanitario regionale, che non è stato più approvato, il nuovo piano sanitario che deve organizzare la sanità pubblica, la sanità convenzionata, le strutture ospedaliere, la sanità sul territorio. La cosa è molto grave. Adesso c'è la pandemia, ma anche in questo caso, soprattutto in questo caso, la regione molise, l'ASDREM, la politica regionale di centro-destra, ha dimostrato tutta la sua incapacità, inefficienza e direi anche la cattiva fede, perché le scelte scelerate ci hanno portato a questo disastro, sia per la cura della pandemia, ma anche per tutte le altre patologie. Cioè qua ci sono migliaia di persone che hanno bisogno di curarsi anche per patologie gravi e comunque cose serie, e non possono curarsi per tutto il disastro che sta succedendo nei nostri ospedali pubblici. È il disastro più totale, è un dramma che non ha più dimensioni, perché quello che accadrà nei prossimi giorni non lo sa nessuno, o meglio, lo sappiamo tutti, la situazione non è più sotto controllo. Cioè praticamente per aver disatteso un mandato popolare, un mandato di consiglio regionale, nel volere il Vietri, ospedale regionale per le malattie infettive e per il Covid, l'hanno portato qui a Cardarelli e praticamente hanno fatto inguinare il più grande ospedale della regione. Questo significa dramma totale, perché con noi ci sono i familiari delle vittime che già sono state, ma cosa potrà accadere da oggi a domani? Nessuno lo può immaginare, o meglio, lo possono immaginare tutti, perché quando è una situazione non gli puoi mettere un nome, perché un nome non ce l'ha più, significa che non c'è più tempo di scherzare. Io dopo di questa iniziativa mi riecherò sotto i palazzi, che non sono venuti qui ad incontrarci, quindi da Toma, da Florenzano, da Scaffarte, da Giustini, per dargli tutte le responsabilità del caso. E se loro rinunceranno di parlare con i rappresentanti dei cittadini, pari pari dopo mi riecherò la Procura della Repubblica a denunciarli per il disastro sanitario, ma anche per aver procurato disordine pubblico, perché questo è... I sindacati di CGL, Cisle e Will, affermano che il Cardarelli di Campobasso è sempre più vicino a Collasso e pertanto invitano la politica a prendere delle decisioni in merito, saltano, dicono, gli schemi di garanzia e dei livelli essenziali di assistenza, ulteriori riparti chiusi e la carenza di personale è ulteriormente aggravata dall'emergenza. In corso, intanto, continuano a aumentare i casi di ospedaliere e pazienti positivi. E anche un nuovo presidio oggi si è verificato dinanzi alla sede del Consiglio regionale. A Campobasso il sindacato USB è sceso in campo in protesta in difesa di infermieri e operatori sanitari assunti a partita IVA, chiesta la stabilizzazione. Ma andiamo a vedere. Evidentemente per fare fronte all'emergenza pandemica il primo investimento che è stato indicato dal Governo centrale già a partire da marzo era quello di fare delle assunzioni straordinarie per appunto affrontare l'emergenza pandemica. Qui in Moise ci siamo trovati nella strana condizione che i lavoratori assunti a marzo sono stati assunti attraverso prestazioni professionali, quindi a partita IVA, soprattutto osse infermieri, avendo di fatto una condizione di scarse tutere e di rischio anche per la loro salute. Pensiamo che chi non ha un contratto di lavoro dipendente per l'ASREM non ha diritto, come nel caso delle partite IVA, ad avere la malattia riconosciuta. Noi stiamo chiedendo di adeguare questi contratti invece a contratti di lavoro dipendente, come tra l'altro viene esplicitato nel decreto Cura Italia, quindi seguendo le indicazioni del Governo centrale per permettere a questi lavoratori di lavorare in sicurezza e di poterlo fare garantendo il miglior servizio possibile. Pensiamo anche a quelli che saranno gli investimenti che verranno messi in campo nei prossimi mesi, anche da le indicazioni che arrivano dall'Europa e dal Recovery Plan è evidente che sulla sanità giochiamo una partita importantissima per il futuro delle nostre società. Per cui, come Speranza stesso ha indicato, è necessario prima di tutto mettere in sicurezza la forza lavoro, i professionisti sanitari che sono coloro che ci stanno garantendo di resistere a questa emergenza. Oggi al Consiglio regionale del Morise chiediamo di dare un'indicazione definitiva verso la pubblicazione di un avviso che possa mettere in sicurezza questi lavoratori e quindi anche la sanità regionale. Siamo di nuovo qui sotto la regione perché oggi in Consiglio regionale si discutono diverse emozioni che riguardano la strada che noi abbiamo intrapreso con USB in cui verranno presentate le nostre richieste su una modifica delle condizioni contrattuali perché noi os e infermieri assunti in pandemia dalla ASREM, quindi nei vari ospedali, Sernia, Campobasso, Termoli, Venafro, siamo assunti a partita IVA. Noi abbiamo richiesto a inizio dicembre in un tavolo tecnico Commissione Sanità e Salute il lavoro, abbiamo fatto delle proposte, abbiamo richiesto un avviso pubblico che tenesse in considerazione il lavoro svolto durante questi mesi perché ormai è passato quasi un anno, la pandemia è ancora in corso, non è più una situazione di pura emergenza temporanea. Abbiamo chiesto degli avvisi per fare una modifica alle nostre condizioni contrattuali perché facciamo fatica a continuare a lavorare in queste condizioni, sia per la mancanza di diritti ma soprattutto, come si sta verificando anche adesso con i vari cluster ospedalieri, molti nostri colleghi a casa positivi, senza lavoro, quindi non saranno retribuiti. E proprio questo pomeriggio il Consiglio regionale ha approvato la mozione con il quale si chiede la proroga degli incarichi del personale sanitario inquadrato in questa emergenza Covid. L'iter legislativo è partito con un ordine presentato dal capogruppo di Orgoio Molise Gianluca Cefaratti. Il Consiglio si impegna quindi ad attivarsi presso la direzione generale dell'ASREM affinché vengano emanati con urgenza i nuovi avvisi pubblici per la copertura di posti a tempo determinato in via residuale con contratti libero professionali indicando fra i punti da assegnare durante la sezione i servizi prestati e durante questa emergenza ha previsto anche l'impegno per la proroga del rinnovo degli incarichi professionali già previsti dalle normative in essere. Ad esprimersi in merito alla situazione Covid anche l'onorevole Rosalba Testamento nella Capitale che dice mi auguro che il ritorno nelle piene funzioni del commissario ad acta Giustini segni un momento di discontinuità nella gestione pandemica. Il commissario dice ha dimostrato di avere contezza delle problematiche che affliggono la sanità molisana e per questo si auspica che agisca in modo rapido e determinato. E ci spostiamo adesso a Sant'Elia, a Pianisi dove protratta fino al 29 di gennaio la zona rossa a seguito dei numerosi focolai che si sono verificati nelle settimane precedenti. Attenzione ancora alta, il sindaco invita i cittadini a fare attenzione e a restare quanto più all'interno delle proprie case. Ma andiamo a vedere. Come è la situazione di Sant'Elia a seguito del focolaio che si è acceso diverse settimane fa? Allora per ora la situazione sembra stia rientrando. Abbiamo 92 casi positivi e 57 persone che si sono negativizzate. Al momento stanno andando ancora a campo basso a fare tamponi, persone che sono risultate positive ai primi tamponi, con la speranza che adesso tornino negative. Di persone che possono diventare ancora positive ne abbiamo qualcuna, ma sono state già delineate e sono in quarantena fiduciaria grazie ai cluster che abbiamo selezionato, delimitato e siamo arrivati a 39 cluster. Quali possono essere secondo lei le possibili cause che hanno portato a questo effetto? Allora le possibili cause sono molteplici, cioè se ne dicono tante sui giornali, ho letto, però adesso non mi sento proprio di discutere su come e sul perché è successo. Adesso dobbiamo pensare di mettere in salvo le persone di Sant'Elia che purtroppo sono state a contatto con questo virus o con persone che avevano contatto con questo virus. Sulle cause ne riparleremo a fine pandemia. Atena sarà tutto finito. Parlando invece del sostegno dell'ASREM e della regione, vi sentite affiancati? Allora, in una prima fase facevo telefonate sia al dirigente dell'ASREM che al presidente della regione e credevo, anzi sembrava che la situazione fosse attenzionata. Purtroppo in questa fase avremmo bisogno, tutto quanto il paese, di un po' di sostegno in più di quello che ci è dato. Un riconoscimento e ringraziamento però va fatto a tutti gli operatori dell'ASREM perché ci sono molto vicini, rispondono sempre, ci richiamano, collaboriamo perché sono veramente molto attenti, tutti. E passiamo invece adesso alla pagina della cronaca. I carabinieri nel corso dei controlli hanno fermato a Campomarino un'autovettura con a bordo due persone originarie di San Severo. A seguito della perquisizione sono stati rinvenuti due coltelli a serramanico, un taglierino, due paia di guanti in gomma e numerosi arnesi da scasso alla luce degli accertamenti. I due sono stati quindi deferiti poiché ritenuti responsabili dei reati di concorso in possesso ingiustificato di atti ed oggetti ad offendere. La polizia di Campobasso invece ha fermato una macchina che però alla vista degli stessi si era data alla fuga. A seguito di un breve inseguimento è stato poi fermato il mezzo con a bordo un giovane. Il 27enne è stato poi però condotto in questura dove è stato sottoposto a perquisizione. Anche la sua auto sulla quale viaggiava è stata inquisita e a bordo della stessa è stata rinvenuta una quantità di sostanza stupefacente. Pertanto lo stesso è stato segnalato alla prefettura ed è stata elevata una contravvenzione per non essersi fermato. Il rientro nelle aule scolastiche del Molise in presenza lunedì 18 è ancora sospeso per via del numero elevato di contagi in Molise. Gli studenti però adesso temono ripercussioni non solo dal punto di vista sociale ma anche educativo e scolastico. Andiamo a vedere. In questo momento i giovani restano a casa molto tempo per questioni scolastiche che non possono essere presenti nelle aule delle proprie classi. quanto sarà possibile secondo lei farli tornare la vita scolastica in presenza? Guardi noi abbiamo come linea di arrivo il 17 di gennaio, dal 18 dovremmo ripartire con la scuola in presenza. Noi vorremmo ripartire con la scuola in presenza dipenderà molto dall'andamento di questa pandemia. Noi abbiamo i dati giornalmente sotto controllo, stiamo cercando di ridurre la curva dei contagi in Molise quanto più possibile. In Molise non è tra le regioni più svantaggiate in Italia sotto questo profilo, però noi abbiamo la necessità di scendere, se ci riusciamo, sarà un grande obiettivo, a di sotto di quel fatidico 1 dell'RT, il tasso di contagio, in maniera tale che il 18 si potrà ripartire a scuola in presenza e questo consentirà ai giovani anche di praticare nei limiti del possibile seguendo le regole l'attività sportiva. Ma c'è una problematica legata al trasporto pubblico locale? Guardi i prefetti di Sernia e di Campobasso hanno fatto un gran lavoro coordinando i tavoli proprio dedicati al trasporto pubblico locale e alla riapertura delle scuole. Noi siamo pronti a ripartire, direi anche al 100%, volendo, perché sono state previste ulteriori corse e questo ci fa stare più tranquilli perché potremo trasportare studenti, ma non solo, anche pendolari, con una percentuale di riempimento sostenibile che non dovrebbe superare il 50%. Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha emesso l'ordinanza per l'accesso al transito nel centro cittadino degli autobus aggiuntivi per il trasporto pubblico extraurbano riservato agli studenti. Sulla base delle indicazioni della prefettura, oltre al potenziamento delle corse, autorizza la fermata dei mezzi in via Scardocchia dinanzi al liceo classico in via Le Manzoni all'altezza del parcheggio dell'università, istituendo anche una nuova fermata autobus in via Gazzani di fronte alla casa circondariale con conseguente divieto di sosta ai veicoli. Restiamo sempre nel tema della sanità. Nel nostro focus settimanale in onda alle 21 di questa sera i dottori Cosimo Dentizi ed Ernesto Lavecchia, con i quali parliamo dell'attuale situazione Covid, dei vaccini e soprattutto del futuro della sanità. Ci informano, andiamo a vedere un estratto. Continuare a prestare attenzione, continuare a mantenere il distanziamento, continuare a tenere le mascherine, continuare a lavarsi le mani e anche una volta vaccinati, noi possiamo essere anche se vaccinati, possiamo essere portatori di virus, quindi anche le persone vaccinate devono continuare a prestare attenzione. e poi l'appello che faccio non ai politici, perché ai politici è inutile fare l'appello, perché oramai i politici stanno per fatti loro, cioè ragionano da moda loro. L'appello che faccio ai cittadini è di riprendere in mano la questione della sanità e ricordiamoci che la riforma sanitaria è stata fatta dai cittadini, è stata fatta in virtù di grossi scioperi che sono stati fatti per la riforma sanitaria e se vogliamo una sanità migliore i cittadini, non dico che devono riscendere per forza in piazza, ma devono portare, devono far sentire la loro voce in tutti i social network, dappertutto, per far sì che questa sanità possa essere dignitosa di nuovo. Ecco, un'altra parola chiave, la dignità. Sicuramente non posso che non essere d'accordo con quello che Mino ha detto, quindi protezione, attenzione massima è fondamentale, vacciniamoci tutti perché naturalmente per poter raggiungere quello che si chiama immunità di greggio abbiamo la necessità di superare il 70% dei vaccinati e sul discorso della dignità abbiamo già parlato abbastanza e quindi soprattutto fidatevi praticamente dei vostri medici di medicina generale, di continuità assistenziale, cioè dei medici del territorio, dei medici dell'ospedale, non sono la vostra controparte. La vostra controparte, ammesso che si possa chiamare così, è solo la politica e quella dobbiamo pensarci tutti quanti insieme per poterla governare al meglio. Il paese di Rotello è lutto per la scomparsa del sindaco Michele Miniello, l'uomo è deceduto dopo essere stato ricoverato al Santimotio di Termoli, pare a causa di un malore il cordoglio ai familiari da parte della redazione. E parliamo adesso dell'emergenza cinghiali. Aida Romagnolo ha chiesto in consiglio regionale che vengano messe in atto delle ulteriori misure urgenti volte alla tutela dei cittadini. La presidente della terza commissione ha evidenziato lo stato di emergenza causato dall'aumento incontrollato degli ungulati presenti sul territorio regionale che stanno mettendo in ginocchio anche l'intero settore agricolo. E giunge anche dall'ordine dei medici di Sernia il monito a vaccinarsi, un gesto necessario per uscire il prima possibile dalla pandemia. Ma andiamo ad ascoltare le parole del dottor Fernando Crudele che ha vissuto in prima linea l'esperienza del contagio. Ascoltiamo. Come sta andando questa campagna? Devo dire che all'inizio come qualsiasi cosa ci sono stati sempre piccoli intoppi ma adesso sembra che stia viaggiando molto bene. Ci sono tante squadre di vaccinatori, abbiamo dato anche la nostra disponibilità come ordine dei medici di Sernia e di Campobasso a vaccinare, a essere dei vaccinatori. Quindi come tale non mi sembra che ci siano grossi problemi. Lei questo coronavirus l'ha conosciuto direttamente. Che esperienza è stata? È bruttina perché ringraziamo di Dio noi ne siamo venuti fuori e ne possiamo parlare tranquillamente dispetto di tanti altri amici e colleghi che invece non ci sono più. È stata un'esperienza che ci ha colpito perché anche dal punto di vista dei sintomi è stata abbastanza brutta con dolori e astenia profusa. Però poi piano piano alla fine si è dimostrato come una forma virale, solo che è durato molto tempo. Mentre il virus influenzale in 3, 5, 7 giorni passa qui, abbiamo anche 15, 20. Che raccomandazioni si sente di fare? Prima di tutto vaccinarsi, appena possibile vaccinarsi tutti e poi di continuare con il distanziamento sociale, lavarsi sempre le mani e usare la mascherina. Abbiamo visto che in questi mesi è l'unica arma che ci ha aiutato a far scendere in basso il numero dei contagiati. Il centro-sinistra in Parlamento chiede maggiori aiuti per le persone affette dalla SLA, una patologia degenerativa in pericolosa ascesa nel paese. Vediamo. Perdita di mobilità e funzioni neuromuscolari. La sclerosi laterale amiotrofica in Italia aumenta al ritmo di circa 2.000 nuovi casi l'anno. Sono alti i costi delle cure a carico delle famiglie e del sistema sanitario. La maggioranza in Parlamento ha presentato al Governo una mozione di leggi in aiuto ai malati di SLA, un registro specifico sulla patologia e il rafforzamento della ricerca scientifica. Chiediamo al Governo di assumere iniziative che garantiscono al malato di SLA e ai suoi familiari una presa in carico globale della propria condizione, ispirata sempre ai principi dell'etica, dell'equità e dell'omogeneità del territorio, secondo anche quanto stabilisce la Carta dei diritti delle persone affette da SLA, che parla di sette principi rivendicati da tutti gli affetti da questa patologia. E sono, per esempio, il diritto di accesso alle migliori cure, il diritto di una corretta informazione per scegliere le terapie adeguate e, di conseguenza, il diritto di scelta dei percorsi, il diritto di una migliore qualità della vita, il diritto alla partecipazione attiva nei percorsi di ricerca finalizzati all'individuazione e dei trattamenti destinati a loro. La mozione chiede al Governo di adottare iniziative volte ad estendere le linee guida per la gestione clinica e domiciliare dei pazienti affetti da SLA, anche perché è necessario procedere quanto prima alla revisione del nomenclatore tariffaro degli ausili e delle protesi, che ahimè è desueto, anche perché il progresso della tecnologia ha portato al superamento degli stessi. Ecco, parlare di questa mozione in un momento così delicato per il nostro Paese credo che sia davvero importante e fondamentale. È chiaro che il Covid-19 spaventa ancora tutti noi e possiamo immaginare quanto gli effetti devastanti di questo virus siano ancora più amplificati, purtroppo su soggetti che già prima della pandemia vivevano momenti di disabilità e quindi disagevoli e quindi di fragilità. Ecco perché è innegabile dunque che l'impatto del Covid-19 su queste persone con disabilità può avere degli effetti mostruosi che il Governo e il Parlamento devono assolutamente attenzionare. E la raccolta dei rifiuti differenziata nella città abruzzese di San Salvo ha sfiorato nel 2020 la percentuale del 70%, un segnale che incoraggia perché rispettare l'ambiente vuol dire amare la propria città. Ha dichiarato così il sindaco Tiziana Magnacca. La presenza del nuovo servizio di igiene pubblica a San Salvo è stata attivata senza aumentare i costi a carico dei cittadini. E parliamo adesso della bevanda del caffè. Il caffè è bevuto con moderazione e tutela la salute del cuore. Una ricerca dell'Istituto Neuromed di Pozzilli conferma le proprietà protettive di questa antica e quanto popolare bevanda. Andiamo a vedere. Colore i quali consumano tre o quattro tazzine al giorno di caffè, preparato secondo la tradizione italiana, ha un rischio minore di decesso soprattutto per malattie cardiovascolari. Un moderato consumo giornaliero dell'aromatica bevanda è quindi vantaggioso per la salute, secondo una ricerca condotta dagli esperti dell'Istituto Neuromed di Pozzilli. Analizzando le abitudini di migliaia di consumatori molisani, i ricercatori hanno potuto osservare come il consumo abituale di caffè sia correlato con un minor rischio di morte, con particolare evidenza per le patologie legate all'attività cardiaca. Con questa ricerca il Neuromed conferma che la bevanda stimolante consumata senza eccessi e con regolarità porta ad una riduzione di rischio di patologie. Lo studio ha reso possibile anche identificare uno dei probabili meccanismi biologici alla base di questo effetto protettivo per la salute, un frammento proteico, normalmente prodotto dalle cellule del cuore, chi consuma abitualmente caffè a livelli inferiori di questa molecola. Forse è venuto il momento di inserire il caffè all'italiana nella dieta mediterranea, ha commentato la docente universitaria Licia Iacoviello. E passiamo adesso alle previsioni del meteo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori e inviale Olanda nella zona industriale di San Salmo. Poco nuvoloso oggi sul Molise, le temperature sono comprese tra 1 grado, la minima a Campobasso e 13 gradi la massima a Termoli, venti moderati provenienti da nord-ovest, poco mosso il medio adriatico, valori climatici in calo e nubi sparse con qualche fiocco di neve nelle aree più interne domani sulla regione. E dopo la sconfitta nell'anticipo della sedicesima giornata, la Magnolia Campobasso di pallacanestro femminile di A1 resta a 10 punti in classifica, ma andiamo adesso a vedere il quadro completo. Vediamo la classifica di serie A1 della pallacanestro femminile, Umana Venezia 32, Bologna a basket Schio 24, Ragusa 22, Empoli, Sesto San Giovanni, San Martino di Lupari 16, Costa Masnaga 14, Magnolia Campobasso 10, Bruni 93, 8, Dinamo Sassari 6, Lemura, Lucca, Vigarano 2, Battipaglia 0. E con questo è tutto, per stasera termina qui l'edizione del telegiornale di TLT. Io come sempre vi ringrazio per la cortesa attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata, arrivederci.